Vale ragazzi, qui Dido andiamo avanti con amnesia, ok, andiamo, wow, stavo per dire andiamocene ma abbiamo lui Non ti avevo visto, ciao Dido, sono un teschio, sono fico, si lo sappiamo tutti che sei fico, vai Ok, mi avete scritto di andare a controllare la mucca perché mi sono scordato il pezzo di sfera E io, io non avevo davvero visto che c'era un pezzo di sfera E anzi, non mi ricordo, però proprio neanche un posto in cui poteva essere Oh, stai zitto, come ti chiami, Alexander? Oh, no, 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 va bene così, tu non mi hai visto, tu non mi hai visto, io sono un granello di polvere Non mi hai visto, sono troppo piccolo, ok, ora ritorno, wow, piano, piano, in fila indiana Ora ritorno là dalla mucca e vediamo se c'è davvero qualcosa, mi sembra fosse qua Oh, la mia mente sta andando a puttane Quanto è la mia mente? Ah, proprio è andata, bene, perfetto Vabbè, in effetti, fra gente che mi parla e cose così Dov'è la sfera qua? Ah, è là, è là in cima Ma no Ah, eccola Wow, cos'è sta roba blu? Cioè, perché mi è apparso? Vabbè, comunque, ora è chiarissimo adesso Ora li posso unire, non si attaccheranno Non lo voglio usare Ma ok, grazie mille ragazzi, non me ne ero data, grazie ancora Eh, mi sa che saremmo stati bloccati altrimenti Ok, adesso Dobbiamo andare di qua e poi a E poi a sin No, aspetta Oh, cazzo Da che parte sto andando? Di qua si può andare Mi basta che uno ci possa andare e io ci andrò Sì, un altro posto Oh, mio Dio Aspetta, 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 aspetta Aspetta, andiamo con ordine, andiamo con ordine Allora, la porta era là Ok Ah, quindi Oh, quanto è grosso sto posto È una cosa assurda Ne stavo discutendo l'altro giorno Con alcuni di voi nei commenti Cioè, con uno di voi nei commenti Quanto pagherà di affitto qua il mostro? Cioè, è una cosa assurda Vabbè, comunque Andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti Ok, allora Di qua abbiamo detto sinistra Basta vedere che ora mi ritrovo nello stesso punto Di prima, prima, prima Eh, no Ma porca la mia troia Dove sei, mostro? Fatti vedere Ok Quindi No, aspetta Cioè, ho fatto il giro? Ora ho tre pezzi di sfere e basta Cosa me ne faccio? Ah Ah, forse Ho capito Ora devo ritornare da capo E andare nell'altro cancello Che si è aperto Credo Perché almeno fa Tre pezzi di qua Tre pezzi di là Almeno, eh Credo Poi ora comunque vedremo Se faccio la scelta giusta Mostro per favore Stai dove sei adesso? Non lo so dove sei Ma non Credo tu sia vicino a me Ok, mi sembra Che siamo arrivati di qua Un ponte No, basta Con questi rumori di foglie Un ponte E poi Una porta No, eh La porta no Mi raccomando Qua no E allora di là Per favore Per favore Non farmi Non farmi sbagliare Strada Ah, basta il rumore No, ho sbagliato strada Veramente Ho sbagliato strada No Aspetta Di qua Di qua cosa c'è? No Mi sono perso veramente Oddio Dove sono finì? Sono di nuovo qua Ma non di nuovo qua Ma perché A me Ok Di nuovo Cos'è? Niente Ho visto No, no, no Mi sono perso Perché ho abbassato lo sguardo Ok, di qua Allora Non è così difficile Dito Basta che ci ragioni Ed è quel Cos'è questo rumore? Ed è quello il difficile Ragionarci Un serpente Quello lì era Devo passare di qua E allora andare dritto Quanto pare Devo andare dritto Allora Sì Devo andare dritto Questa ci doveva essere la Oh Ok Era andato troppo lontano L'uomo stava soffocando Perché non poteva più Respirare bene E tra le frustrate Dispiaciuto iniziò A cercare l'olio di rosa Damascena Damascena Basta col farmi dire Sta parola Non so la pronuncia Basta Perché non c'è più L'uomo appeso qua? Chi è che si è mangiato L'uomo appeso? E guardalo come Con che stile entra Tagliare attentamente L'uomo lo fece riflettere No Questo l'abbiamo già letto Mi rifiuto di leggerlo Ancora una volta Siamo a Perfetto Basta 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 con questa scritta Fammi andare avanti Che siamo carichi tutti Wow 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 Stalla gatta Mi ha fatto paura Perfetto Non mi Ricordavo quella stanza Ragazzi Oh ecco Perfetto Di là bisogna andare Ragazzi Agrippa Dimmi qualcosa Ciao bello Ma c'è sempre Una possibilità Un altro mondo Ah ecco perché ha dei finali multipli Forse li posso fare In modo che lui apra Buon forse posso fare In modo che lui apra No aspetta un secondo Aspetta un secondo Perché ho perso La frase prima di una Importante Allora Quindi Tanto ti do il pollo Si può Agrippa Non può preparare Il tonico da solo Vabbè Mi sembra anche Ovvio Ok Il trassetto Va bene Hai gli ordini Ma perché Più gli parlo Più Missioni ho Il trassetto Va bene L'ho capito questo Questo qua Intuivo Il trassetto è di qua Immagino Ok Allora Un pozzo che scende Si potrà Si dovrà andare giù Boh Vabbè Guarderò dopo Prima andiamo di qua Di qua cosa c'è? Wow Piano 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 Trassetto Noi allora Ce ne sbattiamo Di quel pozzo Andiamo qua Perfetto Quel giorno qualcosa Dietro di lui morì Guardava quell'uomo Che spariva Guardare quell'uomo Che spariva Era più di quello Che la sua mente Voleva capire Porca la mia Troia Quanta roba Testata Oh Piano 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 Ok Sto barone Sto barone qua Mi sta sempre più antipatico Andiamo di qua Boh Wow 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 Piano 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 Topi Cosa ci fate qua? Piano Oh Porca Puttana E' una delle cose più inquietanti Sto passaggio Ok Si può? Interrompo qualcosa? No vero? Perfetto Ok Si può entrare qua? Buongiorno Dammi L'affare Bravo Questo Pezzo di sfera Pezzo di sfera Lo stupratore Era appeso Sotto sopra Le sue lacrime Sporcavano il sangue Che scorreva Dalla sua pancia La sega Tra le sue gambe Si era piantata sul fianco E non si sarebbe Spostata più Gli uomini Indietreggiano Aspettarono Che la vittima Si dissanguasse Ma perchè ste cose? Io non lo voglio toccare Questo Beh Andiamo di qua Ok Flashback Let me go You crook You You You're a man How can you partake in this Is he alright? He is one of the wicked Don't pay his lies any attention I'm not the bad man It's not an accident He set a man on fire It wasn't my fault Why won't anyone listen? That's horrible Of course We are dealing with monsters here Ok Comunque Questa è un'immagine molto triste Quindi facciamo così Ok Bella ragazzi Qui di video Ci vediamo nel prossimo episodio di Amnesia Lasciate un mi piace Un commento Diventate falsi La fanpage Iscrivetevi qua su youtube Bella ragazzi Quindi Dalla prossima Ciao